Sono state fissate le date della prossima stagione di caccia in Calabria. La giunta regionale presunta Iole Santelli su proposta dell'assessore all'agricoltura, caccia e pesca Gianluca Gallo ha approvato il calendario venatorio 2020-2021, definito in coda ad una fase di controllo e dialogo in sede di consulta faunistico-venatoria regionale con i rappresentanti delle associazioni ambientaliste agricole e venatori. Con il provvedimento adottato, dice Gianluca Gallo, si definiscono le specie cacciabili, i limiti di carniere, le modalità di caccia, i periodi di addestramento e allenamento dei cani. Inoltre si fissano le date di apertura e chiusura al prelievo venatorio. Sarà possibile cacciare il 2, 6 e 13 di settembre prossimi in preapertura e a seguire dal 20 settembre al 31 gennaio prossimo in regime di apertura generale. Infine, dal 1 al 10 febbraio 2021 sarà consentita esclusivamente la caccia ai nocivi. Le scelte adottate, dice Gallo, sono il risultato di una concertazione ampia e proficua, segno di un cambio di passo importante di un metodo che intendiamo seguire anche nell'avvenire per ridefinire compiutamente la fisionomia del mondo della caccia in Calabria. Il positivo parere dell'ISPRA e l'osservanza dei principi fissati nelle direttive europee consentono non solo coerenza rispetto agli indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale vigente, ma anche il rispetto delle stringenti norme dettate dal Ministero dell'Ambiente per l'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS.